Musica Cari telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza al nostro rotocalco Fatti e Commenti e come sempre con Gaetano Alaimo siamo tutti e due in studio quest'oggi e come sempre un saluto a casa a tutti i telespettatori e grazie Stefano Grazie a te della presenza, ecco quest'oggi abbiamo con noi la dottoressa Antonella Litta e parleremo con lei di ambiente, di salute in modo molto approfondito in quanto lei è responsabile, quindi referente locale dell'Associazione Italiana dei Medici per l'Ambiente e si occupa in particolare delle responsabilità nazionali, poi ce lo spiegherà direttamente lei per quanto riguarda l'inquinamento delle acque e i danni alla salute e all'ambiente dal traffico aereo Grazie dottoressa della presenza e la domanda a Gaetano Grazie Stefano, ben trovata dottoressa un tema sicuramente molto sentito ormai da molti anni nella provincia di Viterbo e torniamo a parlare del problema arsenico che sicuramente non è un problema di questi ultimi mesi la situazione spesso a livello giornalistico è stata molto contorta perché la gente spesso è disinformata o comunque vorrebbe maggiori delucidazioni su quelle che sono le situazioni attuali i limiti, se sono superati e quali sono i controlli chiediamo a lei dottoressa innanzitutto di farci un punto della situazione su questo problema come voi avete lavorato come medici per l'ambiente per informare innanzitutto su questa problematica Allora, l'associazione italiana medici per l'ambiente è un'associazione riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle Nazioni Unite noi ci occupiamo ormai da quando è nata l'associazione, dal 1990, di problematiche ambienti e salute perché è cresciuta la consapevolezza a livello scientifico che se l'ambiente è sano le persone ovviamente stanno bene questo significa mettere veramente una parte importante di quella che è la salute delle persone sulla prevenzione dico di più, l'articolo 5 del nuovo codice di deontologia medica riconosce e fa obbligo a tutti i medici quindi non soltanto ai medici dell'associazione italiana, a medici per l'ambiente di occuparsi appunto di questioni ambientali e di lavorare per tutelare le risorse ambientali quindi l'aria che non deve essere inquinata, il terreno che non deve contenere sostanze chimiche, tossiche i pesticidi, i rifiuti industriali, quant'altro che poi finisce nella catena alimentare è l'acqua, l'acqua deve essere appunto potabile, non inquinata e perché? Perché un'acqua inquinata, un'acqua che contiene contaminanti è un'acqua che metta a rischio la popolazione, non soltanto attraverso il fatto che viene abbevuta ma spesso perché l'acqua è presente in molti alimenti di cui è parte fondamentale e qual è la situazione degli ultimi tempi nella provincia di Dio? Noi ci siamo occupati di questa situazione con grande attenzione abbiamo portato questa situazione a livello delle istituzioni locali, regionali, nazionali fino al Parlamento europeo perché nell'atto Lazio c'è stata veramente una violazione importante di quello che è il diritto alla salute perché l'arsenico è una sostanza tossica e cancerogena quindi non ci sono delle soglie che ci fanno stare tranquilli però le leggi ovviamente sono una sorta di mediazione quindi la legge diceva almeno portate la presenza di questa sostanza tossica e cancerogena almeno al di sotto dei 10 microgrammi litro purtroppo questa legge che recepiva una direttiva europea doveva entrare in vigore nel 2003 fatto sta che l'Italia, perché questo problema ha coinvolto diverse regioni italiane soprattutto però la nostra regione, questo è perché c'è una costituzione geologica che chiaramente ha determinato la presenza di arsenico e fluoro e altre sostanze di più nelle acque quindi siamo stati coinvolti in maniera diretta e quindi invece di adeguarsi rapidamente e come informando prima di tutto la popolazione questo è stato il primo danno che le popolazioni non sono state informate oppure non sono state informate in maniera adeguata bisognava mettere in atto l'unica forma possibile per rendere l'acqua potabile che è quella dell'utilizzo di dearsenificatori tra l'altro l'Italia esporta dearsenificatori in tutto il mondo invece qui si è utilizzato una sorta di scappatoia che si chiama deroga per cui la legge non è stata rispettata nel senso che durante il periodo di deroga che sono durate per due o tre anni l'acqua è stata addirittura erogata acqua fino a 5 volte il valore ammissibile per legge cioè fino a 50 microgrammi litro di questa sostanza tossica e cancerogena non informando la popolazione e questo è grave perché è una sostanza che passa la barriera placentare e emato cerebrale e quindi bisogna mettere in sicurezza le donne in gravidanza e i bambini ecco Toressa, allo stato attuale secondo il vostro punto di osservazione possiamo stare moderatamente abbastanza tranquilli o da parte dell'autorità c'è bisogno di interventi ulteriori? Diciamo una cosa è cresciuta notevolmente la consapevolezza da parte della popolazione direi anche grazie al lavoro che abbiamo fatto non solo come medici per l'ambiente ma anche come FIMG cioè la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale proprio nell'area del Viterbese ma anche a Latina e nella provincia di Roma che sono coinvolte anche se non in maniera così importante proprio per la presenza di arsenico nelle acque e anche grazie agli ordini dei medici quindi sicuramente è cresciuta la consapevolezza tra i medici nel settore sanitario e tra la popolazione anche tra le istituzioni che si sono sicuramente rese più sensibili e disponibili ad interventi definitivi è ovvio che poi c'è un problema di gestione di questi apparati che servono per dearsenificare e ridurre il fluoro e chiaramente questo non coinvolge noi medici ma coinvolge ovviamente le istituzioni che hanno e incontrano da quello che vedo una serie di problemi che però dovrebbero essere risolti perché non c'è bene più importante e principale per una comunità che è quella della salute Ecco bene, brevissimamente vedo la dottoressa ci ha portato anche questo volumetto che poi avremo modo di approfondire prevenzione dei rischi ambientali un nuovo concetto di salute ecco molto brevemente ci puoi delineare le altre emergenze che il nostro territorio mostra in questo periodo eventuali altre emergenze? Noi assistiamo all'inquinamento sempre più diffuso l'inquinamento non è solo locale se c'è una centrale a carbone qui ce n'abbiamo una vicino che è quella di Civita Vecchia l'inquinamento che produce nell'area che poi sono elementi dannosi tossici, metalli pesanti incremento dei gas serra poi ovviamente rigade nel territorio sia circostante che più a distanza direi che un po' le problematiche di inquinamento dell'Alto Lazio risentono un pochino dell'inquinamento in generale a me del nostro pianeta poi abbiamo delle peculiarità come abbiamo ricordato il problema dell'arsenico, del fluoro nelle acque sicuramente il problema del radon il radon è un gas di tipo radioattivo che tra l'altro può essere presente anche nelle acque e anche qui si potrebbe intervenire facilmente perché basterebbe che le popolazioni fossero ben informate che le istituzioni facessero delle campagne di rilevamento sia negli istituti pubblici che nelle case private perché questo tipo di esposizione a questo cancerogeno che poi agisce in sinergia con l'arsenico e questo è importante potrebbe essere risolto facendo dei lavori di tipo edilizio molto semplici mettendo dei pozzetti per esempio che servono a fare spandere, a diffondere e a liberare, a non concentrare questo gas penso che questo potrebbe essere dovrebbe essere un compito delle istituzioni locali almeno a cominciare dalle scuole grazie un altro tema che noi da anni comunque con i vostri comunicati stampi i vostri interventi portiamo all'attenzione è il lago di Vigo il lago di Vigo voi avete fatto addirittura uno studio ventennale ho visto con il professor Giuseppe Nascetti e comunque voi siete tornati a fare questo buscolo se può essere inquadrato dalla regia che è se si può inquadrare se no lo inquadriremo dopo si è un coordinamento dell'alto razzo dell'associazione Medici per l'ambiente segnalazione del persistere e dell'aggravarsi del processo di eutrofizzazione e netta riduzione della qualità delle acque del lago di Vigo quindi una sintesi di una situazione che non va migliorando siamo intervenuti da tanti anni richiamando veramente appellandoci a tutte le istituzioni anche in questo caso prima di tutto le istituzioni locali la provincia la regione ma anche le istituzioni nazionali il ministero della salute il ministero dell'ambiente fino al Parlamento europeo perché il lago di Vigo è una risorsa importantissima non soltanto dal punto di vista paesaggistico e anche questo è un lago bellissimo tutelato anche tra l'altro all'interno della riserva del lago di Vigo è una risorsa fondamentale per la vita delle popolazioni come l'è stata sempre ora vive una situazione come appunto dimostrato e costantemente monitorato dagli studi dell'Università della Tuscia dell'Istituto Superiore di Sanità ma anche di altre università romane un problema cosiddetto di etrofizzazione cioè si è alterato l'equilibrio di questo lago perché tutto intorno al lago ci sono una serie di attività di tipo agricolo ma anche di tipo civile che favoriscono l'arrivo nel lago di composti che in qualche modo fanno da nutrimento a delle alghe le alghe non è corretto diciamo a sciano batteri che erano fino a 20 anni fa diciamo così in equilibrio con le altre specie algali e con l'intero ecosistema è un po' per fare un esempio semplice è come se avere delle piante in casa e dargli continuamente del concime dei fertilizzanti e quindi si esplodono è quello che è capitato un po' al lago di Vigo che capita al lago di Vigo quindi questi sciano batteri fanno delle fioriture periodiche soprattutto nel periodo invernale e non solo si colora il lago di rosso da cui appunto la denominazione alga rossa ma questa esplosione comporta anche la produzione di alcune sostanze dette microcistine che hanno un'azione tossica e cancerogena che ahimè può passare nelle acque che vengono utilizzate poi ad uso domestico potabile sì ecco una domanda che volevo farle è interessantissima ma sicuramente se ci sarà la sua disponibilità avremo modo anche di rinvitarla diciamo gentilmente alla nostra trasmissione la bioagricoltura c'è un suo saggio interessante su agricoltura responsabile di qualità per la salubrità delle acque e un ambiente sano e tutela della salute abbiamo visto anche c'è e magari lei brevemente ce ne può parlare una voce in questa rivista biogas quando e quanto è sostenibile ecco ci può fare diciamo dei flash riguardo ecco a un'agricoltura biologicamente corretta e soprattutto nei confronti ecco del biogas quando sia sostenibile allora noi dobbiamo tornare assolutamente rapidamente a un'agricoltura che sia biologica e biodinamica perché l'agricoltura intensiva che tra l'altro interessa molta parte del nostro territorio dell'Alto Lazio tra l'altro attraverso anche la monocultura del nocciolo è un'agricoltura che proprio per produrre in una maniera selettiva deve utilizzare troppe sostanze di sintesi chimiche quindi penso ai fertilizzanti e ai pesticidi ma queste sostanze rilasciate in ambiente soprattutto i pesticidi si accumulano e hanno poi un'azione di tipo tossico e cancerogeno dico solo questo in Francia qualche anno fa nel 2012 la Francia ha riconosciuto come malattia degli agricoltori il Parkinson perché queste sostanze a cui sono esposti provoca malattie di tipo neurodegenerativo appunto il Parkinson quindi c'è un nesso evidente altre malattie come l'Alzheimer e la SLA addirittura si è visto che correlano con queste esposizioni poi ci sono una serie di patologie neoplastiche che se visto sono più presenti nei figli degli agricoltori oppure in bambini che le cui matri hanno assunto durante il periodo della gravidanza cibo contenente pesticidi quindi abbiamo assolutamente necessità di tornare a un'agricoltura biologica perché più sana più rispettosa degli equilibri dell'ambiente e della natura il che significa poi anche una maggiore tutela delle acque e quindi forse non avremo situazioni come quelle che abbiamo citato il biogas una battuta sul biogas il biogas bisogna ragionare in questi termini comunque è un gas che viene prodotto e che per dare luogo o a riscaldamento o all'elettricità deve essere combusto la combustione comunque provoca polveri e comunque sia provoca la presenza di gas serra questo è inevitabile anche se mettendo però la sigla bio in qualche modo uno si sente rassicurato bisogna vedere se il biogas può andare bene all'interno di una piccolissima azienda agricola quindi piccolissime realtà ma quando parliamo di dimensioni molto più grandi oppure della produzione di biogas da rifiuti stiamo facendo un ulteriore danno all'ambiente perché produciamo attraverso la combustione di quel biogas ulteriori gas serra quindi cambiamenti climatici e polveri che a me hanno un'azione tossica e cancerogene grazie grazie se Stefano me lo permetti io concluderei con riferimento al vecchio progetto di aeroporto che era stato vanamente portato avanti diciamo vanamente perché poi i risultati sono stati quelli che sappiamo a Viterbo c'era stato sia un comitato a favore che era nato e anche un comitato contro l'aeroporto cui non so se lei faceva parte direttamente me lo ricordo con Giuseppe Sini e tanti militanti che per motivazioni più che giuste appunto erano contro lei sappiamo che ha un ruolo nazionale in questo settore se ce lo può dire soprattutto una battuta su quello che era il progetto aeroporto il trasporto aereo ormai si sa da decenni che contribuisce notevolmente a cambiamenti climatici e nonché provoca dei danni veramente importanti sulle popolazioni che vivono in prossimità degli aeroporti cambiamenti climatici ovviamente perché gli aeroporti è una forma di trasporto che utilizza il cherosene bruciando il cherosene si libera nell'aria gas serra e polveri che ovviamente determinano questi danni importanti tra l'altro agli ecosistemi c'è stata una recente condanna della Cassazione che ha condannato il ministero mi pare dell'ambiente per i danni riportati in un'area vicino appunto Malpensa proprio alle piante per questo danno per spiegare i danni che si hanno e poi ovviamente l'inquinamento acustico l'inquinamento acustico è evidente che provoca evidente studiato e certificato danni di tipo cardiovascolare disturbi del sonno disturbi psicologici e disturbi neurocognitivi nei bambini cioè le scuole che sono vicine a aeroporti sono scuole dove i bambini sono disturbati e non riescono ad imparare e non possono leggere quindi c'è compromessa la loro formazione scolastica ma direi di più è compromessa anche la formazione spirituale delle persone perché non fare l'esperienza del silenzio sicuramente è qualcosa di molto importante che gli viene negato l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice non fate scuole in prossimità di aeroporti allontanatele il più possibile in Italia abbiamo oltre 100 aeroporti quindi siamo ben felici che a Viterbo non sia stato fatto questa opera di costruzione del mega aeroporto perché questo significa in qualche modo aver tutelato la salute dei viterbesi dico di più come associazione medici per l'ambiente il 29 ottobre a Firenze esiderà la prima giornata nazionale di studio proprio sui danni dal trasporto aereo provocati all'ambiente e alla salute delle persone sarà un momento importante in cui ci saranno tutti i comitati nazionali ma i più grandi rappresentanti della comunità scientifica che si occupano di questo l'Italia ha oltre 100 aeroporti non è necessario averne di più bisogna ridurre il razionale del trasporto aereo in Italia ma anche nel mondo ecco bene benissimo la ringraziamo di questa veramente panoramica io vorrei solo concludere e anche avere una battuta da lei salutando il professor Beppe Sini che appunto fa parte il promotore del centro di ricerca per la pace e per i diritti umani di cui anche lei fa parte ecco veramente una battuta su noi pubblichiamo sempre Gaetano è testimone i comunicati molto importanti sulla non violenza sulla tutela della pace deve essere un valore e la tutela dei diritti umani un valore importante comune a tutti ecco una sua esperienza breve una battuta sulla sua esperienza e collaborazione a questa organizzazione il valore della pace è il valore fondamentale per le persone e per la comunità tutte le cose di cui noi abbiamo parlato questa sera di cui potremmo continuare a parlare per giorni sarebbero azzerate se noi stessimo in una situazione di guerra quindi è fondamentale prima di tutto l'impegno per la pace perché la pace non immette in giro soltanto l'odio la rabbia la disperazione la violenza devasta anche l'ambiente inquina le acque le bombe che cadono uccidono le persone uccidono l'ambiente noi dobbiamo salvare l'ambiente e le persone quello che si fa con il centro per la pace di Viterbo è proprio questo aumentare la consapevolezza che la cosa più importante è la vita delle persone salvarle salvarle tutte e insieme salvare la natura e lo facciamo ovviamente attraverso anche forme poi di esperienze concrete di aiuto cercando di far crescere questa consapevolezza con attenzione richiamando anche le istituzioni soprattutto richiamando il dovere verso la nostra carta costituzionale l'articolo 11 della costituzione ci dice che l'Italia ripudia la guerra e dovremo sicuramente ricordarcelo più spesso e renderlo più concreto benissimo ecco Gaetano credo che con questa bella affermazione possiamo concludere questo incontro e credo ecco anche da parte tua di poter poi invitare nuovamente la dottoressa a qualche incontro che faremo grazie per la sua presenza e buonasera a tutti buonasera e grazie grazie a voi per questo apportamento grazie a tutti